Ha segnato la Juventus, esattamente al minuto 23 nel corso del primo tempo cambia il parziale al MAPEI Stadium, la Juventus si è portata il corpo sul fondo e dà sensi, è ancora lì il silent check che continua, è ancora lì l'arbitro che decide di andare ad assegnare il tiro dalla bandierina alla Juve, quindi non c'è stata deviazione con le mani, parte Pialic, cross in mezzo, coperrete il raddoppio della Juventus e chi ha segnato? Ancora lui, ancora il numero 7, ancora Cristiano Ronaldo in anticipo secco su compagni avversazione, a dir poco meravigliosa, pallone che ha circolato tra i piedi di Cristiano Ronaldo e Didi Bala, triangolazioni continue e poi Asses dei CR7 per Ebrecian che arriva dall'elettrovia in area di rigore da sinistra, incrocia un diagonale imprendibile a Rasoterra per consigli e il gol che chiude i conti, 41esimo in corso a Reggio Mila, Juventus 3, Sassuolo 0, Terza rete di Ebrecian è lì